11 giugno 2002. Il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, attribuisce ufficialmente al fiorentino Antonio Meucci il primato della invenzione del telefono a oltre un secolo dalla sua morte. La risoluzione, presentata dal deputato italo-americano Vito Fossella, viene approvata per acclamazione dal Congresso. Il rivale di Meucci, l'americano Bell, che gli aveva fino ad allora sottratto gloria e successo, esce dalla vicenda come un impostore e un profittatore.